Bene, piacere. Sono Marco Quaglia, come vi accennava Maria Luisa Mirabella, che ringrazio per questo intervento e per questo spazio. Il Viaggio dell'eroe è un percorso che ho iniziato dieci anni fa facendo dei laboratori per adulti in presenza e proprio quest'anno, nel 2024, questo laboratorio raggiunge i dieci anni e collaboro con l'Università Popolare del Sociale dal 2021. Quindi, dopo essere diventato costellatore e finalmente poter applicare come costellatore il Viaggio dell'eroe, sono diventato docente per insegnare, appunto, dare la possibilità alle persone che sono interessate a questo percorso di formazione di diventare dei costellatori familiari archetipici, cioè di andare ad utilizzare gli archetipi, i dodici archetipi del Viaggio dell'eroe, nelle costellazioni, utilizzando, appunto, gli archetipi in costellazione. Chiaramente bisogna avere dimestichezza con le costellazioni familiari, quindi comprendere gli ordini dell'amore di Hellinger, aver capito come riportare ordine nel sistema familiare, ma andare più nelle specifiche, come se noi a un certo punto volessimo fare un check della nostra salute e quindi andiamo ad analizzare tutte le parti, tutti gli organi vitali del nostro corpo. Ecco, gli archetipi funzionano un po' in questo modo. Abbiamo la possibilità di concentrarsi, per esempio, sulla mente, sul corpo, sull'anima, andare a guardare nello specifico i comportamenti che ci sono stati nella nostra età evolutiva. Quando parliamo di età evolutiva, non parliamo solamente degli anni che abbiamo o che abbiamo avuto, delle età specifiche, ma parliamo di un'età che si evolve con gli archetipi. Oggi vi parlerò del primo archetipo e della relazione che ha anche nell'ambiente psicoterapeutico con il nostro bambino interiore. Il primo archetipo è l'innocente. L'innocente si sviluppa dal momento del concepimento fino ai sette anni di età. Quello è il momento in cui le risorse di questo archetipo, che chiameremo le parti in luce, e le paure di questo archetipo, che chiameremo l'ombra, si attivano maggiormente. Che significa? Che quando superiamo i sette anni non abbiamo più l'innocente, no? Al contrario, lo abbiamo per tutta la vita. È il primo che si attiva e ci accompagnerà per tutto il percorso della vita. Ecco perché è il fondamentale, è il più importante. Allora, mi aiuto con le slide anche per farvi capire meglio. Bene. Ecco qui l'età evolutiva, dal concepimento ai sette anni. Il colore che caratterizza questo archetipo è il bianco. Ogni archetipo ha un colore che lo attiva. Le qualità che sviluppa questo archetipo. La fiducia, l'entusiasmo, il gioco, la speranza, l'ottimismo, l'apertura, la leggerezza, la capacità di ricevere, la capacità di dipendere dai genitori, perché ovviamente è piccolo, quindi non è in grado di soddisfare i propri bisogni da solo, ha bisogno dei genitori e delle altre figure di riferimento. Lealtà, purezza e l'essere senza filtri. Cosa sviluppa in ombra? La paura, il vittimismo, il pessimismo, l'attaccamento, le dipendenze, le pretese, la richiesta, l'onnipotenza, l'egocentrismo, la fuga dalla realtà, il rifiuto dei conflitti, l'illusione, l'ingenuità, l'inesperienza, sono tutte cose che noi possiamo riconoscere, per esempio, in un bambino. Ma non solo, le riconosciamo anche negli adulti che a volte hanno degli atteggiamenti infantili e che ci appartengono anche a noi, chiaramente, no? A volte ci lamentiamo, a volte siamo un po' vittimistici, oppure siamo pessimisti. Allora dobbiamo andare a guardare questo archetipo in particolare. È la fase più delicata della vita, perché ogni piccolo avvenimento può determinare lo sviluppo futuro della persona. L'innocente è la parte di noi bambina. È il nostro bambino interiore. Ecco qui la relazione con il bambino interiore che spesso è trattato negli ambienti terapeutici, sia dagli psicoterapeuti, ma non solo, chiaramente. Crede nella vita, crede in se stesso e negli altri. È dotato dell'entusiasmo. L'entusiasmo che da adulti continuiamo ad avere, per esempio, quando vogliamo intraprendere un viaggio, una nuova relazione, un nuovo lavoro. È puro, è vergine ed è incontaminato, è integro, è completo in sé e agisce in base al principio del piacere. Deve soddisfare i propri bisogni primari. Quindi agisce in base al principio del piacere. Quello che gli piace lo vuole. Quello che non gli piace si allontana, non lo cerca. Ha la capacità di ricevere. Quindi lascia entrare tutto, perché è senza filtri, è senza difese. Quindi quali sono i punti di forza di questo archetipo? I punti di forza, scusate, qual è il rovescio della medaglia rispetto a questi punti di forza? È ingenuo. È ingenuo perché è senza filtri, è piccolo, quindi ancora non ha sviluppato una propria personalità. È dipendente fondamentalmente dagli altri. Manca di realismo e nega l'errore. Il bambino non può accettare di essere imperfetto e non può accettare neanche che i propri genitori siano imperfetti. È egocentrico, cioè pensa che il mondo ruoti attorno a lui, perché il bisogno che sente, lui pensa che debba essere soddisfatto sempre e comunque. Quindi è impossibilitato a vedersi imperfetto. Pertanto è sempre richiesta e non riconosce i bisogni dell'altro. Allora, cosa accade da adulti? Se questo archetipo non l'abbiamo integrato in maniera sana, l'adulto sarà egocentrico ed egoista, sarà troppo impegnato nella soddisfazione dei propri bisogni ed è in continua richiesta verso gli altri. Se l'adulto invece ha integrato l'innocente, sarà in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente, non solo, riconoscerà anche i bisogni dell'altro. Quindi svilupperà relazioni sane, stabili. La fiducia. Come si attiva la fiducia? Beh, se gli viene data fiducia dai genitori, il bambino svilupperà la fiducia in se stesso, negli altri e nella vita, insieme alla speranza, all'ottimismo, all'apertura. Il bambino è innocente proprio perché non ha nessuna responsabilità, in quanto ha delegato in quella fase della vita i suoi genitori. La responsabilità è dei genitori, quindi sono loro che devono provvedere ai bisogni del bambino. L'innocente è la parte di noi che continua a credere a qualunque costo, perché ha una incrollabile fede che il mondo è un luogo sicuro e gli esseri umani sono buoni. Questo si ha sviluppato la fiducia. La dipendenza. L'archetipo dell'innocente è caratterizzato dalla necessità di dipendere dagli altri, perché se no non sopravvive. Quindi se ci siamo sentiti amati, nutriti, accuditi, rispettati, il nostro innocente si sarà sviluppato in luce e sarà quindi portatore delle risorse che abbiamo visto, gioia, fiducia, ottimismo. L'infanzia serve proprio per imparare a dipendere completamente dai nostri genitori. La sana dipendenza a quell'età è la fiducia. Se noi abbiamo dato fiducia ai nostri genitori e abbiamo ricevuto da loro amore, accudimento, attenzione, allora noi svilupperemo una sana fiducia. Più si riceve dai genitori e dalle radici, dagli antenati, e qui ci ricolleghiamo alle costellazioni, e più si sarà autonomi e si potrà dare. Se non si riceve abbastanza dai genitori, le radici dell'albero genealogico saranno spezzate e si tenderà a pensare che nemmeno il mondo potrà dare quel nutrimento a noi, quel nutrimento che il nostro bambino ancora chiede. Se invece abbiamo sperimentato la sofferenza nei primi anni di vita sotto forma di mancanza, cibo, protezione, calore o cura, o di violenza fisica, sessuale, emotiva o psicologica, è probabile che il nostro innocente abbia virato verso l'ombra e sia diventato quindi in qualche misura triste, pauroso, lamentoso, dipendente, senza voglia di vivere né di giocare, che sono emozioni che senz'altro nella vita abbiamo provato, in alcuni periodi almeno della nostra vita. Quindi l'adulto che cosa accade quando diventa un adulto? Questo contenuto prosegue nella sezione abbonamenti. Abbonati al canale e avrai accesso a numerosi contenuti esclusivi e aiuterai a sostenere Università Popolare del Sociale con un piccolo contributo di soli 3,99 euro al mese.